Frattura costale, questo è il risponso degli esami strumentali a cui ieri pomeriggio si è sottoposto Andrea Rigoni che dunque, come nelle previsioni, non sarà disponibile per il match di domani pomeriggio contro il Monopoli. Frattura maturata in seguito ad un contrasto di gioco e a causa della quale il centrocampista osserverà un periodo di riposo assoluto per i prossimi set, dieci giorni, prima di riprendere gradualmente l'attività agonistica sotto il costante monitoraggio dello staff medico bianco-rosso. Out domani, out sabato prossimo, quando il Teramo andrà a far visita al Rieti, attualmente fanalino di coda del campionato, anche causa penalizzazione. Nelle prossime gare dunque le chiavi del gioco del diavolo saranno affidate a Federico Viero per una mediana green così come vuole la dirigenza, che durante la sosta di Natale aveva chiarito l'intenzione di valorizzare i classi 99 presenti in organico. Anche in relazione a questo si spiega il motivo del netto vantaggio che Piacentini ha su Cristini per almeno tre ordini di motivi. Il primo, come detto, è quello legato alla possibilità di accedere alla graduatoria dei contributi della Lega qualora i tre giovani giochino la partita per intero. La seconda è quella legata ad una flessione di Cristini e infine, ma collegata al secondo punto, il momento positivo di Soprano, che sembra diventato il punto fermo della retroguardia del diavolo. Davanti ci saranno Bombaggi e Magnaghi, mentre in casa Bonopoli, confermato il 3-5-2 con carriero PC di interni, giorno che avrà le stesse mansioni per parte Bianco-Verde di Viero, ai lati attenzione particolare ai due esterni, Donnarumma e Tazzer, vere spiene nel fianco all'andata, ma un problema per qualunque avversario. Ecco perché saranno importanti i tentardini a sinistra e i cancellotti a destra, difendere soprattutto e ripartire quando ce ne sarà l'opportunità. Gara affidata a Gariglio di Pinerolo, tre i precedenti con il Teramo, una vittoria e un pareggio e una sconfitta. Il primo incontro col fischietto premontese, il 6-0 tennistico del marzo 2017 con il Gubbio. La stagione successiva, 0-0 interno con la Feralpi Salò, infine nell'aprile scorso la sconfitta del Nereo Rocco di Trieste per 3-2, col diavolo ad un passo dalla salvezza diretta, nonostante quello stop.